La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Per vivere insieme i momenti più belli. Imparando a prenderci cura l'uno dell'altro. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Lo Hacker. Per questo abbiamo aggiunto più nocciole italiane alla crema napolitaner. Usiamo latte alpino senza OGM, da moche che per lo più vanno al pascolo. E ci impegniamo ogni giorno per rendere più sostenibili le coltivazioni dei nostri cacao e vaniglia. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Lo Hacker. Ora più che buono. Lo Hacker, che bontà! Grazie a tutti!